Lo sport non è solo competizione, lo sport è soprattutto valori etici, valori come quelli della memoria e della solidarietà, valori che sono la pietra fondante della prima edizione del Memorial di Calcio intitolato a Costantino ed Enrico, un giovane arbitro e un giovane calciatore del territorio prematuramente scomparsi per malattia. La New Academy ha deciso di ricordarli istituendo la prima edizione di un Memorial dedicato alla categoria esordienti misti 2010-2011 con 12 squadre giovanili presenti a cominciare da big di Serie A come Juventus e Atalanta. Le motivazioni sono purtroppo la scomparsa di due ragazzi prematuramente, quindi per far sì di non dimenticarli, di lasciarli sempre in mezzo a noi, abbiamo cercato di creare questo Memorial con un fine importante e lo scopo è quello di avere una raccolta fondi per poi darla all'Associazione Veronesi per far sì che magari qualche ragazzo più fortunato possa suppurire di questi fondi. Costantino era un giovane arbitro, sicuramente un ragazzo dai valori importanti, dove credeva nella vita ed era veramente una persona, un ragazzo che credeva anche nel sociale. Enrico invece era un giocatore veramente dalla voglia di vivere e dalla voglia di giocare, che aveva un sogno di giocare in squadre magari più importanti e aveva iniziato un percorso che poi purtroppo la malattia ce l'ha fatto interrompere. Il Memorial si terrà dal 9 all'11 settembre sui campi peseresi di Vismara e Santa Veneranda e sarà accompagnato da una raccolta fondi destinata alla Fondazione Umberto Veronesi. Una formula che nella presentazione nel Comune di Pesaro è stata applaudita anche dai vertici regionali del CONI. Sono eventi che servono prima di tutto per non dimenticare, in questo caso, due ragazzi che sono venuti a mancare in un'età veramente prematura e il secondo luogo, quello che mi sta anche particolarmente a cuore, che in un momento difficilissimo per lo sport, così come in altri settori del nostro paese, le nostre società riescono comunque a mantenere quella che è la loro peculiarità, cioè sempre quello di essere anche vicini a qualcun altro, di sostenere sempre chi ha più bisogno rispetto anche al mondo sportivo. In questo caso è per la fondazione per la lotta al cancro, che è una spiaga del nostro paese, pertanto quando arriviamo a presentare un evento rivolto ai giovani, un evento che ricorda due giovani prematuramente scomparsi, un evento che il suo ricavato non rimane in cassa alla società, ma va a favore di chi ha più bisogno rispetto a noi, penso che la presenza del CONI era perlomeno obbligatoria e da parte mia non potevo non essere qui al fianco, diciamo anche del delegato che è qui con me, per dire grazie agli organizzatori. Memorial che è stato realizzato grazie al sostegno di sponsor come Banca di Pesaro e Fisioradi, oltre naturalmente alla sentita partecipazione delle società calcistiche coinvolte. Devo ringraziare sicuramente Juventus, Atalanta, Parma, Perugia, il Rimini stesso, la Segato che arriva da Reggio Calabria, o la Barletta, o il Trestina che avviene dall'Umbria, il Perugia stesso, o comunque il Villa San Martino del territorio, la Vismara che comunque ci ospita e quindi ringraziamo assolutamente, e non a meno la Santa Veneranda che comunque ospita il torneo nella struttura personale. Quindi un grazie importante a tutti loro che hanno dato un contributo al Memorial.